Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali con il super bonus in relazione ai cantieri avviati. Sarà così riconosciuto il credito d'imposta per tutti i lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023 per le opere ancora da effettuare. A partire dal 1 gennaio 2024 si confermano così le percentuali previste a legislazione vincente. Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri con il super bonus 110% che abbiano raggiunto almeno uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo riservato però solo ai percettori di redditi inferiori ai 15.000 euro in relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili dall'agenzia alle entrate. Nel decreto c'è spazio anche per le persone con disabilità al fine di evitare però l'uso improprio dei bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Salva l'agevolazione al 110% anche per chi ha fatto lo sconto in fattura o la cessione del credito su tutti i lavori certificati entro dicembre 2023. Per tutti gli altri lavori dal 1 gennaio scatta la detarazione al 70%. In Sicilia gli investimenti ammessi a detarazione col super bonus al 110% al 30 settembre di quest'anno ammontano a circa 5,3 miliardi di euro. In Sicilia sarebbe pari nel triennio 2021-2023 al 6,4% del valore aggiunto delle costruzioni tra lo 0,7 e lo 0,8 del PIL dell'occupazione. Una boccata d'ossigeno puro per le imprese e di conseguenza per la disoccupazione calata così nel settore edile. Adesso si prosegue anche nel 2024.